Il Comune di Palermo ha avviato i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Via Libertà nel tratto compreso tra Viano Tarbartolo e Piazza Vittorio Veneto e la realizzazione di un muro di contenimento in corso Calatafimi. I lavori saranno consegnati domani e saranno divisi in 13 fasi e dovranno terminare entro tre mesi. Il primo tratto interessato sarà quello tra Viano Tarbartolo e Via Di Marzo, l'ultimo tra Viale Lazio e Piazza Vittorio Veneto per un totale di quasi 1,3 km di nuovo marciapiede in una delle arterie principali della città. Per effettuare i lavori saranno così chiusi al transito pedonale e veicolare i tratti di corsia riservata ai lavori interessati. La delimitazione dell'area di cantiere avverrà con la realizzazione di recinzione distante un metro dalla linea di delimitazione della corsia riservata con o senza cordolo e la chiusura dei due streni laterali di perimetrazione del cantiere per evitare intrusioni dei veicoli. L'AMAT è l'azienda partecipata di trasporto pubblico in città in prossimità delle fermate ricadenti nei tratti di cantiere dove possibile provvederà allo spostamento delle fermate interessate, dandone per tempo comunicazione utile alla cittadinanza.